ciao belli come state? aspettate come state? ecco aspettate adesso entrerà una persona in diretta eccolo buonasera ciao che sta a fa? io niente e tu? niente bene? sì sì io bene sfatiamo il mito anche qua? vai allora in tantissimi cioè almeno a me anche avete scritto in direct il post tipo quello che aveva fatto web o non so cosa se avessimo chiuso ma di quello che hai detto a me allora praticamente il tiktok è quello là che ho ripostato praticamente in realtà lì c'entra niente era perché mi piaceva la frase e mi piaceva il video non per altro quindi sono giustificato quindi sono giustificato esatto quindi non è successo niente non abbiamo chiuso infatti siamo qua insieme in questa diretta una a Roma e l'altra a Milano però ho detto che non si può fare niente e quindi poco cento qua il tiktok fa niente io rimango sempre bello mi piaceva ah dai la verità allora domani c'è inizia a Sanremo quindi sei pronto speriamo tu lo vedi di solito qualche volta sì cioè non tutto ok allora io ho visto un po' le persone che dovevano gariggiare o comunque gli ospiti allora tra gli ospiti quello che mi piace di più è te anche io questa cosa la confermo ecco e poi invece io spero che vinca giochiere giochiere eh vabbè giochiere 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 per forza secondo voi chi vince chi mi piace di più chi lo saprà mai non lo sa io vedo tutti iniziati a seguirti iniziati a seguirti non vedo i commenti tu li vedi no ok ok sono l'unica boh allora alcuni hanno scritto te e due hanno scritto te e due aspetta io non vedo niente io ho detto solo quello perché gli altri sono mie scondute giochiere giochiere è bravo e poi non ho più detto boh comunque il fatto sa che domani inizia e io volevo dirvi anche qua che oggi non c'è stata la diretta su rds next perché sarà giovedì dalle 14 alle 16 quindi dalle 2 alle 4 domani vai a scuola vero? si purtroppo eccolo lo sapevo è studiato? non esageriamo qua cioè una mia di mezzo comunque speriamo che giochiere guarda la diretta capito? almeno giochiere noi speriamo che tu vinci per noi vinci per noi si giusto io ho confermo tutto quello che hai detto ti vogliamo bene ti vogliamo tanto bene aspetta a me non mi esco non sto male è il nuovo aggiornamento e non faccio live su instagram dal 700 e vabbè quindi qual è il cantante tuo preferito? allora cantante in generale forse o sfera oppure medi oppure medi o giuliar io vario vabbè il tuo si sa già perché hai i disco i cereali le foto e quell'altro tutto di sfera vabbè per forza tanto per cambiare no? poi lo schermo del telefono si abbina come mi resta il giorno da non dimenticare c'è tutti i diversi colori lo faccio vedere dal vivo va bene va bene va bene quindi vieni troppo bello quando è che verrai a ritrovarmi? te ne preoccupate te ne preoccupate poi organizzo tutto mmm e a san valentino? eh t'ho fatto il regalo poi scopriare anche quello ah pure? tutta sorpresa eh però bello eh anzi è bello ma secondo me l'importante è il pensiero quindi va bene anche se ti vedo sia l'importante il pensiero eppure è bello quindi un po' di niente là eh perfetto allora allora abbiamo trovato la perfezione sei bellissimi tutti e due grazie io non vedo i commenti mi capita solo la lisa da seguirti allora io vedo che carini e poi basta io nessuno adesso tutti non mi escono più a te ci vai a scuola domani io purtroppo sì però fa niente dai mi divertirò con le mie amiche a ridere durante la lezione ma però domani domani ho una verifica fortunatamente facile perché è una comprensione quindi su te che la verifica spagnolo spagnolo e di comprensione io io non ho capito l'italiano figura di dai sai un po' lo spagnolo no io non ho mai fatto spagnolo quindi cosa hai fatto è francese però non so nemmeno quello ho visto le domande aspetta una è quanti anni hai 15 mi sembra strano dirlo perché l'ho fatti da poco poi aspetta che hanno chiesto a che ora andiamo a scuola allora io aspetta alle 8 e 10 dovrei entrare io entro alle 7 e 50 8 massimo 7 e 50 per il cancello 8 massimo 7 e 50 apri il cancello poi decidiamo noi quando entrare dalle 7 e 50 alle 8 no io alle 8 e 10 dovrei entrare cioè dovrei però di solito entro sempre a 15 20 chiusi sia perché faccio un po' di ritardo perché c'è traffico la macchina o se no se arrivo presto alle 13 comincio a entrare il cancello chi è che entra alle 6 e 40 alle 6 e 40 si sveglia a che sveglia la nottina 6 e mezza 6 e quara 7 facciamo che alle 7 e 10 mi alzo dal letto io alle 7 e 20 dovrei partire di casa 7 e 20 io alle 7 e 20 dovrei partire di casa perché ci metto mezz'ora ad arrivare mezz'ora 40 minuti dipende come fai dai 6 alle 7 e 20 a essere pronta e sta in macchina vuoi sapere mi trucco in macchina mi lavo i denti faccio colazione in macchina no no in macchina mi trucco e basta che poi io mi trucco non so con che voglio perché potrei dormire in macchina con i 40 minuti che ho però fa niente e poi mi fettino i capelli allora a casa faccio colazione mi lavo i denti e la faccia mi vesto e vado si però io faccio tutto con calma cioè scelto mi vesto mamma mia ci metto almeno 10 minuti per lavarmi i denti no io invece mi sveglio alle 7 e mezza 7 e 40 e cioè di solito alle 7 e mezza poi mi alzo dal letto alle 7 e 35 e 40 così me lavo mi vesto me lavo i denti perché colazione non la faccio perché sennò mi bevi da comitare sennò fa la mattina però tanto cioè tu lavi io mangio prima di di lavarmi i denti grazie però tanto non dovevo mangiare io quindi mi lavo stesso no voi lavate allora voi mangiate e poi lavate i denti sennò c'è chi lava prima i denti e poi mangia con tutto il sapore del dentifrisio vabbè non capisco il senso però va bene a me non piace se io faccio cioè prima mangio e poi mi lavo i denti vabbè io cosa mangi però tanto io mi lavo i denti e poi arrivo là alle 8 e 20 e alle 8 e mezza già mi sto a mangiare un panino in classe di solito ecco e nessuno lo sa cioè è tutto top secret ah ok quindi tu mangi di nascosto e tutto no io mi porto cioè io usavo alcuni prof che me lo fanno fare cioè davanti a loro alcuni sì ma noi no noi abbiamo io mi porto tre merende un panino e poi tutte le ore ce li ho coperte poi ci compriamo le caramelle chi porta il panino con il salame chi con la nutella no voi noi abbiamo le macchinette sotto quindi è anche noi però non ci fanno scendere sempre più che altro perché si fa tanta folla cioè già noi siamo in poche parole qua c'è un istituto e qua c'è un altro noi siamo nell'altro in quello nuovo ed è piccolissimo e quindi tipo sono due classi sopra e una sotto scendiamo e si fa tutta la folla perché quelli dell'altro istituto vengono da noi no no invece c'è praticamente suona e andiamo al giro come ci pare che fortuna vabbè sono i superiori penso che potete fare così meglio tanto che mi specchio amarissimo ma perché c'è lo specchio davanti sì puoi vederlo io c'ho la finestra non te la ricordi questo specchio no dai mi ricordo solo dove mettevi il telefono sopra la lampada che cascava mi ricordo solo quello quella è la lampada ah ok e dall'altro lato ci sta l'armadio ecco se lo specchio sì mi ricordo mi è esplosato dai non ti ricordi abbiamo fatto anche la foto qua con questo specchio infatti tu stai guardando il telefono eh infatti solo quello mi ricordo l'armadio e e basta eh l'armadio è il telefono mio che cadeva sì per fare fare un tiktok tre ore perché cadeva il telefono ma mi compro il telefono se riesco anche meglio del tuo e quale vuoi comprare scusami 15 pro io c'ho il 15 pro max non è vero ma sì che ce l'ho non è no non è no no c'ha due telecamere il tuo il mio non è l'hai cambiato no no fa me vedere che c'ha tre non ci credo no vabbè ma poi ma io mi ricordo c'erano due eh no magari ti ricordi quest'altro telefono e quanti direi e quanti c'hai due perché e li uso tutte e due io ma la vena ce l'ho uno te ce ne hai due eh vabbè ma quello è vecchio perché più che altro quando mi servono le foto me le mando quindi eh il mio è tutto scassato il telefono mio che fa te vabbè a parte che l'hai visto per colpa tua mi sei allargato non è vero non è vero in poche parole lui ha un buco nero cioè non non è forato ma ha tipo una chiazza nera sul si chiamano cristalli comunque sono i cristalli rotti ah i cristalli rotti io ho tipo fatto così e un po' no ci ha spitto proprio sopra c'era come se gli ha dato un cazzotto e da uno è diventato due dai ma perché devi prendermi in giro è vero però cioè te vedi i cristalli rotti e i vettimenti e ma io pensavo cioè io ho fatto così e tu infatti è allargato vabbè lui intanto è che diceva no il telefono e te credo dai uno mi è diventato due sto malissimo vabbè adesso è diventato uno però si vedono tanti pezzettini piccoli intorno infatti prima per entrare in diretta non sapevo che tasto cliccare perché non li vedevo ho provato a caso e ce l'ho fatta io mi immagino a lui che fa aspetta qual è il tasto aspetta che sta bolla si deve levare prima l'ho provati tutti poi sono riuscito ti chiedono se puoi salutare Ale ciao Ale boh io certe volte vedo i commenti certe volte no hanno detto che ci vogliono rivedere insieme chissà quando verrà a trovare magari vengo io beh meno male dai sei contento di vedermi se vengo? sono contento che mi faccia volere di macchina e aver venito io poi il resto dai per vedermi sei contento però dai ci mancherebbe altro scusami io verrei in treno se vengo in macchina quello si è fatto sei ore di macchina 12 perché è andata nel ritorno avevo ragione scusa il giorno dopo però non si è andata da scuola è stato uno dei giorni più belli ah non ti ha fatto andare in fine? no ho cercato di non vincere in tutti i modi tu hai tutto il viaggio no dai mamma non voglio andare a scuola dai dai mamma non voglio no ho fatto finta per un pezzo tipo il pezzo finale di essere stanco di dormire sì mi immagino il tuo mamma che sta vedendo questa diretta e fa cavolo perché non l'ho mandato a scuola è la stanza accanto infatti penso che mi sta sentendo ecco e vabbè però mi immagino che tu eri molto felice di questa cosa ciao pure la verifica no perché tu dopo che sei uscita la testa ma no no mamma dai ti prego non voglio andare a scuola poi sono io che ti prendo un giro dai dai lo fai per prima vabbè ma noi scherziamo dai ci vediamo bene in fondo in fondo no dai dai no bene ok lo sai che tra poco mi metto a giurare lei vero ecco no no adesso vi dico questa cosa ogni volta che io lo chiamo li scrivo o comunque lo sento oh io li scrivo oi cosa fai so giocare a break oppure lo chiamo e lo vedi là così ok oh e poi fa sto giocare a play no vabbè sto malissimo eh forse scusa c'ho ci devo giocare è un solito maschio che giocare a play sempre poi voglio che quella che è sempre la danza oppure che studia sempre io durante la giornata gioco studio un pochetto no no un po' studio un po' studio ho preso ho preso otta storia l'altra volta eh ho preso otta storia l'altra settimana bravo per la precisione 8 meno però la precisione 8 meno poi c'è stata fatto l'interruzione di matematica perché dovevamo fare l'esposizione un gruppo dice te 8 te 8 te 8 cristiano 7 e mezzo no ho detto dai prof mi commetti 8 meno meno e lei mi ha detto come te cambia e io ho detto almeno l'emozione deve avere 8 su registro e io il giorno dopo mi sono trovato 8 meno meno alla fine sul registro cioè in realtà sarebbe 8 uguale e basta prova tanta roba sto malissimo aspetto un secondo che stai con il secondo telefono eccomi tornata con la mia luce che poi ho la lampada accesa quella accesa e non si vedono io c'ho solo la luce davanti che poi c'ho lampada quella che c'è pure te no però tu ce l'hai gigante io tipo presa da te a 10 euro ti ricordi quando io volevo fare un detoc con quella con quella ringlet solamente che l'abbiamo fatto di qua in camera e l'ho accesa e l'ho rimasto con tu non lo vedevi lui perché quella ringlet ti acceca però cioè pensate che io l'ho uso ogni giorno per farti capire la mia lampada questa qua che è tipo come quella c'è che sono la mia dedemo a 10 euro ha fatto una brutta fine no vuoi guardare aspetta cos'è che hai detto che non ho visto cosa per attaccarla no aspetta si stacca pure sto male è tutto piegato perché perché sono salito su proprio sbaglio ma stai fa il teremono sto vedendo una cosa vabbè allora mi metto a giocare la mia io adesso tanto tra poco ti abbandono pure il jessic 9 so far vediamo ecco io ho quello nero e uno bianco mi sa te quale c'hai la 4 io sì tu hai la 5 immagino vabbè ma io ce l'ho da un botto la 5 infatti è tutta scassata ce l'ho tipo da da quando c'è da qualche mese dopo io non manco la uso la uso a mia sorella uso poi poi la sfido io ecco lo sapevo io non so neanche come si gioca non sono entrato allora faccio allora voi allora facciamo una roba che noi diciamo una frase per gioiare e tutti quelli che sono nella diretta devono mandarli la diretta per farle arrivare la clip il più possibile cioè deve avere tipo deve avere uno spam di questa diretta vai infatti cioè mandategliela adesso facciamo una bellissima clip di metà luce davanti perché sennò si aspetta non sta a cadere il telefono no allora siataggatelo che mandategliela comincio comincio io la frase o te no no vai comincio io quando ne vediamo un bel po che le iniziano a mandare la mandiamo registrate mandatergliela anche così almeno c'è un telefono all'8% sì sì tanto adesso la facciamo e ti lascio giocare all'onplay così sei felice fai prima di così almeno magari non registrano la tua registrano solo la mia dai allora attiva allora fate la registrazione intanto la diretta il più possibile a giocare così facciamo arrivare questa clip così spacchiamo altro che allora tutti che la mandano dai cominciamo allora vai ci siamo allora innanzitutto io spero che vinci si vinci quindi ti mando un grosso bacione e ti voglio tanto bene giochi allora ciao giochi e bocca al lube saremo un saluto noi speriamo che tu vinca forse è che da il mio cuore il mio cuore non me lo fa vabbè venga il cuore altro che va bene va bene va bene va bene aspetta ciao